Domenico Pettinari e la sua squadra di candidati per le elezioni di Pescara puntano sulle tre porte di accesso della città, porto, aeroporto e stazione. Il nostro programma per il rilancio della città di Pescara attraverso la sua vocazione turistica arriva al porto via mare, viaggia in treno dalla stazione centrale e prende poi il volo dall'aeroporto d'Abruzzo. Sono queste le parole del vicepresidente del consiglio regionale, candidato sindaco civico per il comune di Pescara, Domenico Pettinari, che questa mattina sul lungomare Matteotti ha incontrato la cittadinanza per parlare del suo programma. Oggi presentiamo la nostra visione strategica per le tre porte di accesso alla città, che io ritengo siano porto, aeroporto, stazione ferroviaria. Come le immaginiamo noi? Sicuramente sul porto di Pescara, che deve essere uno dei dossier principali sul tavolo del sindaco, noi dobbiamo risolvere il nostro problema dell'insabbiamento, quindi terminare immediatamente i lavori. Le nostre imbarcazioni devono poter rientrare e uscire agevolmente, contestualmente, ripristinare il collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico. Perdiamo questo collegamento nel mentre altri scali limitrofi e incrementano i collegamenti. Ricollegare con l'altra sponda dell'Adriatico significa portare qui turisti e quindi incrementare la nostra economia. Agire sull'aeroporto, che è un'altra porta d'accesso alla città, che io dico completamente scollegata con l'altra parte del mondo. Lo scalo di Pescara perdeva voli nel mentre altri scali limitrofi incrementavano i voli. Ecco, anche lì interconnettere le tre porte d'accesso significa porto, aeroporto, stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria, nella nostra visione, andrebbe invertita completamente la rotta. Quando si esce dalla stazione ferroviaria, la porta che si apre davanti oggi parla di bruttezza. Noi dobbiamo parlare di bellezza. In che modo? Riqualificare l'area di risulta, farlo diventare un grande polo attrattivo, favorendo un concorso di dere, con le migliori competenze, le migliori professionalità della nostra terra e non solo. Noi immaginiamo un grande polo attrattivo e sicuramente un parco urbano, un parcheggio importante, ma questo. Le tre porte d'accesso poi vanno interconnesse. Il porto deve dialogare con l'aeroporto, che deve dialogare con la stazione ferroviaria. Pensiamo anche a tanti punti informativi sparsi nella città che possano proporre parchetti turistici, accogliere, cullare il turista, portarlo anche nelle aree interne e riportarlo alla città di Pescara. Io non voglio più vedere un turista che si gira attorno, spaesato nella città di Pescara e chiede che cosa c'è. Questa è una città che vive e deve vivere di turismo e di commercio, ma se noi chiudiamo, come oggi purtroppo, ma da decenni, le tre porte d'accesso alla città, questa città impoverisce solamente. Ecco, questa è la nostra visione strategica. Naturalmente la stiamo declinando in un programma dettagliato con i cittadini e io mi auguro che i cittadini premieranno questo progetto politico che guarda sicuramente al futuro e non al passato.